Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti. Io vorrei parlarvi di questo momento, ecco, di questo momento un po' particolare, lo definirei, per dire che sono stufa, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E a questo proposito avrei un paio, giusto un paio di cose a dirvi. Ma tu ora dimmi a che ora è? Che finalmente tocca a me, son dentro casa già da un po', sento che presto scoppierò. Dicono tutto bene andrà, ma comincio a dubitare. Ma hanno detto c'è il coronavirus, che cazzo è il coronavirus? E perché mai da un pipistrello è finito qui? Che fine ha fatto la mia suchi? Ho studiato un po' l'inzione, danza e recitazione, ma sto virus mi ha stroncato l'intenzio a te. Sopra un palco vorrei stare, sì l'arena può bastare, perché io non rimanga ancora qui, con quella lì. Io voglio avere il mio show, ma col corona non si può. Ho scritto a dotta e anche all'assimo, senza la parte mi do al vino. Lezioni online, ok ci sto. Faccio pilates con la babi, va bene agli addominali, ma insomma sto lavoro per chi lo fa. Io voglio avere il mio, non tuo, non suo, ma il mio. Ciao!